Affrontiamo Cantu, che è una grande squadra e poi ha un ottimo annesto come lui al per me è un onore per marcare un giocatore che ha vinto, che ha fatto tanto, che ha dimostrato di essere un ottimo giocatore e un gran picchiatore, quindi per me sarà dura. Speriamo di tenere botta, di sicuro è uno stimolo in più, non è nient'altro che uno stimolo in più. Certo rispettiamo la persona che viene più fronte, però si gioca sempre la palca destro e facciamo il nostro lavoro, cioè ci concentriamo su di noi, su di lui o su Cantu, quanto basta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.